Gli agricoltori della Lombardia mettono trattori e altri mezzi agricoli a disposizione dei comuni per le operazioni di disinfezione e sanificazione necessarie per limitare la diffusione del coronavirus in città e paesi. Lo annuncia l'assessore regionale all'agricoltura Fabio Rolfi ringraziando i rappresentanti delle associazioni agricole e dei contoterzisti. Grazie agli agricoltori lombardi e ai contoterzisti lombardi abbiamo messo a disposizione dei comuni che vogliono fare, che intendono fare opere di sanificazione delle proprie strade, luoghi pubblici, delle piazze delle nostre comunità in mezzi necessari. È un segnale di disponibilità, di appartenenza alla comunità, di solidarietà importante che il mondo agricolo sta dando in un momento di difficoltà. Io credo che vada ricompensata questa disponibilità avendo maggior consapevolezza negli acquisti dei generi alimentari. Compriamo e mangiamo lombardo, compriamo e mangiamo italiano, deve essere operativo e categorico sempre, a maggior ragione oggi, anche per ricompensare il mondo agricolo di questa disponibilità. E anche gli agriturismi col diretti in Lombardia aprono le porte e si mettono a disposizione per accogliere le persone guarite dal coronavirus e dimesse dagli ospedali, ma che necessitano ancora di alcuni giorni in isolamento a scopo precauzionale. La col diretti Lombardia sta raccogliendo le disponibilità sul territorio, nel sottolineare che sono quasi 200 i posti disponibili in risposta all'appello delle istituzioni regionali.